Signori, The Colony, film di fantascienza con Loren Frischburg, cioè Morpheus per gli appassionati della fantascienza, fantascienza fatta bene, che non è il caso di questo film. È una porcata, voto 5 meno, cioè potevano risparmiarcelo, tempo perso. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, questo lo trovate su Prime, comunque vi lascerò il link. Saluto a tutti, ciao ciao!